Benvenuti in Goa Dance Anuman Radio Più action, più divertente in Goa Dance Anuman Radio Ciao, sono Stefano, con un DJ di Anuman, e sei benvenuto nel nostro mondo Buongiorno Buonanotte Buonasdias Buonanotte Namaskar Bene Bahia Buonanotte 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 Calimera, Calisvera, Goa Danza, No Man Radio oggi la musica è proposta da Andrea Ami questo è Protonica, rise on the robots, Yono music, musica, musica la musica è di nuovo... Grazie a tutti 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 Dock So, solo Grazie a tutti 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 Liguria Grazie a tutti 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 Grazie a tutti